ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale stilograficamente il canale dove la mente si rivolge al bello ed oggi il bello prende le sembianze di questa bellissima platinum 3776 century burgundy parleremo di una storia della storia di questa penna parleremo delle parti che la compongono la metteremo alla prova di scrittura e scriverò una pagellina con quelli che sono i tratti con cui sono solito prendere sotto esame una stilografica quindi trarrò delle conclusioni sugli aspetti positivi e meno positivi di questa penna in ultimo vi lascerò con una serie di suggerimenti per chi avesse la possibilità di migliorare di questo questo esemplare allora devo fare una premessa per la prima volta il link che trovate in infobox non è un link diretto a un negozio è un link affiliato ad amazon quindi questo cosa significa che voi potete acquistare questa penna a un prezzo vantaggioso il più vantaggioso che ho trovato però con un link affiliato il che significa che per voi il prezzo non cambia però una piccola percentuale di quello che è il costo che voi pagherete verrà accreditata al canale stilograficamente quindi è una forma per voi se volete ovviamente di sostegno del canale cosa succede se non acquistate dal link che vi metterò in infobox assolutamente nulla vi vorrò bene comunque anche perché seguite i miei video e continuate a farlo quindi grazie per la vostra attenzione parliamo della storia di questa penna è una serie quella della 3776 che fu progettata da haruo umeda un designer un esperto di scrittura giapponese che infatti fu poi nominato mister fontaine pen e fu immessa la serie 3776 originale per la prima volta nel 1978 sul mercato quando comparve sul mercato da lì a sei mesi ebbe un tale successo che furono venduti 150.000 esemplari pensate un po un bel colpaccio direi e la serie 3776 è stata ripresa per il centenario della della platinum con la serie appunto century che ricalca diciamo il design originale della serie 3776 portandola in alcuni accorgimenti portandola avanti in maniera evolutiva innovativa con alcuni accorgimenti tra cui il brevetto snip and seal il slip and seal vuol dire scivola e sigilla ed è un brevetto che consente con un controcappuccio ammortizzato da molla di sigillare la camera in cui è contenuto il pennino quindi non pa non entra non esce più aria il che vuol dire che lo mantiene ben umido ben come come posso dire pronto alla scrittura fino a due anni c'è un grafico se andate nel sito della platinum che vi mostra il calare diciamo dell'inchiostro quindi se voi avete una cartuccia piena la trovate per metà c'è un po di dispersione c'è un po di evaporazione c'è chiaramente però la camera è sigillata il che significa che rispetto ad altre stilografiche questa ve la potete dimenticare per due anni senza avere gravi problemi solitamente chi lascia le penne inchiostrate ha comunque un problema nel riprenderle in mano senza un minimo di manutenzione di pulizia con l'acqua in questo caso per chi se ne dovesse dimenticare tipo la lasciate nel vostro nella vostra località nella vostra casa vacanza se ne avete una e ve la riprendete l'estate dopo senza problemi allora 3776 è l'altezza del monte fuji in giappone e parliamo un po delle parti che compongono questa penna sommità del cappuccio in materiale acrilico traslucido esattamente come il resto del cappuccio del fusto insomma le altre parti della pena penna in acrilico con rifiniture metalliche dorate e come potete notare abbiamo una sorta di perno con un bullone che trattiene il diciamo l'innesto del del contro cappuccio in materiale plastico che è ammortizzato da una molla quando voi svitate la penna perché il cappuccio appunto si svita la molla rilascia il contro cappuccio quando l'avvitate nello stringere vedete cosa fa la molla si sposta di un pochino e quindi viene sigillata la camera poi qui abbiamo una veretta con su scritto 3776 p di platinum il logo della platinum platinum nel caso in cui non sapessimo per cosa sta la p made in japan fatta in giappone la clip è rigida e fa il suo mestiere assolutamente forma classica con un piccolo decoro una specie di scalino è una un degrado diciamo non non tagliente non affilato non rovina la vostra giacca perché non non ci sono rientranze che possono spigoli che possono rovinarla come dicevo prima materiale traslucido c'è un anellino che separa il fusto dal fondello che è un finto fondello non si svita e sopra la veretta c'è un altro anellino detto ciò il cappuccio si svita in 11 e tre quarti un giro e tre quarti rivelando una sezione con un piccolo diciamo un piccolo scalino qui finale che vi dà la sensibilità che state per finire sopra al gruppo di scrittura quindi evitando di sporcarvi le dita se vi fermate in tempo e comunque c'è una filettatura piuttosto dolce quindi potete impugnarla anche qui senza grossi problemi la penna è a cartuccia o convertitore in questo caso c'è un convertitore che si compra a parte non è incluso nella nella platinum century solitamente la platinum non lo distribuisce insieme alla penna comunque è una penna a cartuccia o convertitore l'attacco è quello proprietario della platinum quindi se provate a usare cartuccia attacco standard qui non va hanno l'attacco loro comunque viene abbiamo rivelato un pennino in oro 14 carati ve lo faccio vedere da vicino come potete osservare c'è un foro di sfiato che ha forma di cuore bellissimo poi ci sono questa specie di c'è questa specie di m che accompagna le ali dei rebi del pennino 3776 come abbiamo detto prima all'altezza del monte fuji la p di platinum come logo 14k 14 carati perché un pennino in oro in questo caso di gradazione fine la lega che è 585 e sul lato c'è scritto japan per chi avesse diciamo dubbi su dove questo pennino sia stato fabbricato sotto abbiamo un alimentatore in plastica vedremo poi come si comporta vi faccio vedere il profilo del pennino perché noterete che la punta è leggermente rivolta verso il basso i pennini della della platinum sono proprio fatti così è una caratteristica loro platinum o nagaia che è la versione artigianale il ramo artigianale della platinum quello più costoso comunque i pennini sono del tutto del tutto simili tenetelo presente questo poi naturalmente come vi ho fatto vedere prima in qualche agile colpo riuscite a svitare il fusto rivelando il meccanismo di caricamento della penna direi che come parti della penna oltre al fatto di mettervi in evidenza il il 4 cappuccio se dovessi riuscire ecco qui vedete il l'anellino che stacca è un contro cappuccio in materiale plastico trasparente di colore bianco nulla di che si vede attraverso sia il contro cappuccio sia il cappuccio perché vedete tranquillamente il pennino ok lo vedete attraverso è una demonstrator in buona sostanza un materiale semi trasparente allora la serie va detto che la serie 3776 century è fatta in diverse colorazioni un blu chartre un nero si è aggiunto da poco il laurel green quindi verde all'oro e questa è diciamo la serie regolare poi c'è una serie ci sono state due serie limitate la prima da 2011 al 2016 che era dedicata ai cinque laghi del monte fuji l'ultima la più recente dal 2017 al 2019 che ritrae lo scenario delle stagioni del monte fuji da quella serie diciamo e ho acquistato la compo che ho già recensito che trovate sul mio canale bene bando le ciance vediamo come si comporta questa signorina in una prova di scrittura che quello che poi ci interessa più da vicino allora allora platinum 3776 bourgogne f un pennino f che tende però direi a un'extrafine perché un f giapponese orientale in oro 14 carati l'inchiostro è questo gerben rouge dorian e perdonate il mio francese io non l'ho neanche studiato e perdonate anche la sbavatura questo l'ho portato nel mio viaggio di nozze e fa parte del cofanetto un po più grande il cofanetto da viaggio con gli inchiostri essenziali essenziali non nel senso che contengono essenze ma nel senso che sono le tinte essenziali con cui andarsene in giro ho trovato che il match con questa penna fosse perfetto sia per la tinta dell'inchiostro che vi mostro da vicino senza far cadere tutto che se mi casca la pena sono guai sia per la tinta vivida dell'inchiostro che mi ricorda un po il borgogna e sia perché è un rosso d'oriente e questa è una penna giapponese detto ciò vediamo la continuità di flusso di questa penna si noti la leggerezza con cui sono andato e la velocità per cui non avere salti in queste condizioni è insomma abbastanza importante copiosità di flusso del pennino moderatamente secco variazione di tratto qui ci avviciniamo un pochettino senza peso cioè col solo peso della penna un capello con minimo di pressione increscendo fin dove lo spingerei di più sinceramente rischiate di compromettere l'assetto vedete che la punta del pennino platinum è rivolta un po verso il basso questa è proprio una caratteristica peculiare dei pennini platinum vi sconsiglio di modificare l'assetto è un pennino particolarmente piatto come potete vedere e con la punta rivolta verso il basso è proprio una loro caratteristica sia di platinum che di nakaia che è il ramo artigianale della platinum bando alle ciance parliamo a questo punto di una scriviamo una pagellina e poi commento alla fine come sempre allora cominciamo col dire il flusso per me è un 9 su 10 perché è un po scarsino gli ho tolto un punto però per chi preferisce risparmiare sull'inchiostro un pennino un po più secco che però non ha salti tende a essere un 10 su 10 dipende da quello che voi preferite io preferisco un pennino un po più lubrificato per cui per me è un 9 su 10 per chi preferisce risparmiare o fa un viaggio lungo e deve assicurarsi di non spendere troppo in fretta il suo inchiostro 10 su 10 feedback tra l'altro comunque sigillando la camera voglio dire avete sicuramente meno problemi ha una tenuta migliore feedback 7 e mezzo su 10 perché è un pennino che ha un feedback abbastanza marcato se dovessi fare un paragone con le case italiane produttrici direi un pennino aurora ok il pennino aurora ha un suo feedback caratteristico esattamente come quello platinum la manutenibilità quindi a me io preferisco pennini un po più levigati però va detto questo signori io sto scrivendo qui con un f che tende a un extra fine non ho la fortuna di avere un pennino platinum che sia dal broad in su con una compo che ho un soft medium ma già mi ci trovo meglio e gratta meno se dovessi avere un course che sarebbe la c o un broad quindi il corso sta per double broad o un broad già diciamo probabilmente il mio percepito cambierebbe anche sul feedback perché sarebbe un pennino con un tratto più ampio penso penso è una supposizione mi farete sapere se doveste scegliere il link corrispondente al pennino ampio piuttosto che doppiamente ampio la manutenibilità della penna 10 su 10 perché sia che acquistiate la penna e ne usiate le cartucce che sono incluse nel nell'astuccio e in quel caso continuate a siringare le cartucce comunque la pulizia è piuttosto semplice smontate la cartuccia ci infilate come così come vi ho fatto vedere nel video la manutenzione ordinaria di una penna a cartucce ci infilate una una peretta in lattice aspirando ed espellendo acqua la sezione il gruppo di scrittura si 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 smonta diciamo perché inserito a pressione all'interno della sezione quindi pennino e alimentatore con una camera con una sezione di camera d'aria in gomma riuscite ad asportarli per una manutenzione straordinaria quindi la manutenibilità 10 su 10 è molto facile da pulire materiali per me 9 su 10 perché le tolgo un punto perché parliamo di un acrilico anche se è un acrilico piuttosto affascinante un bel demonstrator comunque ha un pennino in oro che sicuramente innalza sia per qualità del pennino perché scrive piuttosto bene sia per il fatto che è una lega d'oro quindi 14 carati le do un dignitosissimo 9 su 10 rapporto qualità prezzo 10 su 10 perché perché signori qui parliamo di una fascia di prezzo molto contenuta siamo sotto le 150 euro e abbiamo un pennino in oro con un meccanismo di slip and seal che facilita chi pur apprezzando la scrittura di una stilografica vuole la praticità di potersela dimenticare senza doverla pulire con una certa ricorrenza con questo meccanismo con questo brevetto la potete lasciare nel vostro cassetto per un po o nella vostra casa vacanze per un intero anno prima di tornarci se avete la fortuna di avere anche una casa di vacanza quando riaprite le finestre di casa per areare a quel punto aprite la vostra stilografica e iniziate a scrivere dopo un anno avendo zero problemi quindi dicevo rapporto qualità prezzo per me è un 10 su 10 perché sia a livello di praticità sia a livello di materiali utilizzati che di qualità costruttiva sinceramente io questa penna ce l'ho con me da un anno un anno e mezzo direi che mi ci sono trovato piuttosto bene l'impugnabilità ultimo valore che vorrei forse dovuto mettere prima 10 su 10 perché perché la penna per mani dalle dimensioni medio grandi o medie o anche piccole a senza cappuccio una dimensione contenuta quindi io con questa riesco ancora a scrivere senza cappuccio calzato se avete mani più grande delle mie che problema c'è il cappuccio calza alla perfezione potete calzarlo e avere un'impugnatura persino fino a questa altezza se la impugnate sulla filettatura la filettatura è dolce non avete problemi qui c'è un piccolo scalino comunque ridotto poi per il resto avete spazio ampio avete anche la sezione che non è proprio risicatissima prima della filettatura quindi direi che l'impugnabilità si merita un 10 su 10 va bene aspetti positivi di questa penna ve li ho un po già elencati pennino in oro meccanismo slip and seal prezzo contenuto pennino in oro che scrive piuttosto bene molto leggera devo dire si presta tranquillamente a lunghe sessioni di scrittura quindi primeggia una alta qualità di scrittura un'affidabilità e comunque anche un'eleganza di una livrea piuttosto classica quindi questa la potete sebbene sia un bel rosso borgogna è un rosso un rosso bordeaux in alcuni casi viene chiamata anche bordeaux questa livrea che comunque non lascia nulla a desiderare in un ambiente anche un po più formale le dimensioni diciamo sono comunque contenute però si adattano a diverse a diverse mani a diverse a diversi scrittori diciamo diverse esigenze di scrittura per cui per me l'aspetto gli aspetti che mi hanno convinto meno di questa penna sono le dimensioni ridotte perché io preferisco scrivere senza il cappuccio calzato e quando scrivo come ho fatto fin qui senza cappuccio calzato con una penna così corta non so non me la sento altrettanto bene per cui di norma io vi ho fatto vedere che era possibile scrivere con senza cappuccio calzato anche con le mie mani però di norma io in realtà in questo caso faccio un'eccezione e calzo il cappuccio dopo tutto è un acrilico robusto mi consente di farlo una sottigliezza e che secondo me non guasterebbe un piccolo o ring che renda più dolce l'avvitamento del fusto sulla sezione e soprattutto più difficile che si sviti perché comunque in un cappuccio che calza a vite su un fusto che si svita appunto non che svitandolo vi troviate la la sezione svitata assolutamente no però diciamo se non stringete bene qualche volta si si ammolla un po e dovete stare lì a stringere vabbè una piccola critica ma molto molto sottile e poi secondo me non sarebbe male se venisse anche incluso il converter ma trattandosi di un converter di alta qualità alta capienza smontabile facilmente ripulibile capisco che platino voglia mantenere un prezzo decisamente più contenuto questa è una fascia comunque fra virgolette economica di pennini in oro cioè 150 euro una fascia veramente veramente competitiva sul mercato per cui non ho molto altro da aggiungere forse vediamo se riesco a trovarlo ecco un piccolo diciamo difetto riguarda come è stata fusa come è stato fuso l'acrilico qui si vede un piccolo raccordo che non noto in altre parti della penna tutto qua un piccolo raccordo di lavorazione poi per il resto è una penna con cui vi potete assolutamente divertire da portarvi in giro comunque una penna di cui trovate ampia diffusione ampi diciamo possibilità di ricomprarla se doveste smarrirla è chiaro che non ve lo auguro perché comunque sono 150 euro bene io direi che per questa penna è tutto io vi ringrazio di aver visto il video fin qui vi do appuntamento ai prossimi video invitandovi a iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste già fatto cliccando sull'icona della campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti e se vi va di sostenere ulteriormente il canale magari usare i link in infobox per acquistare la penna nella gradazione di pennino che più preferite bene grazie a tutti al prossimo video stilograficamente parlando ciao